Beh ragazzi, è da un po' che non lo diciamo, però vigilia, vigilia di una partita della Juventus, mancava, mancava, anche se solitamente per la vigilia facciamo la conferenza stampa pre-partita e in questo caso non potremo farla perché comunque stiamo parlando di un amichevole, ma di un amichevole che fa tornare la Juve dopo un lungo, lungo, lungo stop. E dato che si torna in campo, si torna a giocare, si può iniziare a respirare aria di normalità e di ritorno, vero e proprio il calcio, perché è vero che il mondiale rimane un'espressione altissima per quanto riguarda il calcio, ma non è e non sarà mai come le squadre dei club, discorso nazionale almeno. Perlomeno io la vedo così, il mondiale è sempre affascinante, ma le squadre dei club sono tutta un'altra cosa per quanto mi riguarda. Poi ovviamente quando vinci il mondiale in realtà te lo godi, te lo diverti, così come quando abbiamo vinto l'europeo, però io ho questo amore legato appunto al bianco e al nero che è più grande rispetto a quello che mi può offrire un mondiale. Mi appassiona, mi diverte, ma finisce lì. E domani con l'Arsenal, insomma, non credo che ci sarà chissà quanti giocatori della Juventus convocati, perché abbiamo detto Bonucci è fuori, Chiesa è fuori, Vlaovic magari riposa un attimo, bisogna monitorare quegli altri, insomma domani sarà già una Juventus abbastanza rimaneggiata, diciamo così. Quindi basti pensare davanti, dove l'unico probabilmente certo di un posto da titolare è Moise Ken, perché Milik è ancora in vacanza e siamo usciti agli ottavi di finale del mondiale, quindi per forza di cose è anche Chiesny, quindi giocherà Perin, abbiamo già individuato due calciatori, Di Maria è ancora in Qatar, dove giocherà la finale insieme a Paredes e Rabiot. E ragazzi, Pogba è fuori, Chiesa ha questo affaticamento, vediamo se Quadrado ha recuperato dei problemini. Ieri sono tornati i costici e McKennie, però, beh dai, pian pianino inizia ad esserci un pochino di rientro, infatti i prossimi saranno appunto Chiesny e Milik, perché McKennie è uscito agli ottavi, però è uscito il primo giorno disponibile contro l'Olanda, e gli altri invece caduta libera arriveranno dopo. Basti pensare che probabilmente per la prima partita di campionato Rabiot, Paredes e Di Maria non li avremo a disposizione e bisognerà capire quando torneranno e quanti allenamenti, quindi quanta gamba riusciranno a mettere su, quanto fiato riusciranno a mettere su i tre brasiliani. L'ultima volta che abbiamo visto la Juve, quella era la difesa titolare, quindi in questo momento non è ancora la Juve vera e propria, non è ancora campionato, proprio in entesi meno male, perché davvero in questo momento qui siamo più sfortunati di, non lo so, di un gatto nero che fa cadere del sale guardandosi allo specchio, rompendolo, una roba del genere. Però arriverà anche il momento in cui la Juventus smetterà di avere tutte queste problematiche legate agli infortuni. Il fatto sta che domani torniamo a giocare, finalmente torniamo in campo, una partita con l'Arsenal, ci sono i vari fagioli, Miretti, loro sì ci sono, Locatelli, quindi la base italiana dovrebbe esserci a parte Bonucci e Chiesa, che hanno qualche problemino fisico, e gli altri un po' meno, sarà ben farcita di giocatori dell'Under, probabilmente, però sarà un test comunque piacevole, perché non vediamo la Juve da quel Juve-Lastio 3-0, che è stata forse la partita più convincente della stagione e io vorrei partire da lì, anche con tutto quello che è accaduto in mezzo, mi piacerebbe ricominciare con la Cremonese, con quello spirito e con i tre punti, perché alla fine sono la cosa più importante, perché non dimentichiamoci che il campionato l'abbiamo salutato con il Napoli lassù e col Milan lì vicino, e quindi la Juve deve cercare di recuperare quanti più punti possibili alle squadre che le sono davanti. Questo è, e questo lo dobbiamo fare per cercare di arrivare alla miglior posizione possibile, poi alla fine di questo campionato, io come sempre, torno a ribadire, non credo tanto nella corsa a scudetto per quanto riguarda la Juventus, credo che il Napoli in questo momento stia facendo un campionato a parte, non è finita, ma non so se poi la Juve avrà la potenzialità per andare a mettere in difficoltà il Napoli, ma dobbiamo almeno provarci, cioè dobbiamo metterci in ordine delle idee che quella roba dobbiamo provare a farla. E attenzione che, vabbè, domani la vedremo insieme, no? In live su Twitch finalmente torneremo a fare una partita insieme, una live reaction a una partita, tra l'altro leggevo probabilmente che la partita verrà trasmessa gratis dalla Juventus sul suo sito, non so se questa cosa è confermata oppure no, vediamo. Ieri, anzi l'altro ieri, è iniziata a circolare una voce di Benzema potenziale titolare nella finale mondiale, perché è vero che, anzi, convocato in panchina o comunque pronto a giocare a finale mondiale, perché è vero che domani sera gioca Juve-Arsenal, anzi Arsenal-Juve, ma è anche vero che poi domenica c'è la Coppa del Mondo e quindi avremo l'esito di una delle due nazionali campione, no? E Benzema fa ancora parte dei 26 della Francia, è ancora convocato, perché si è fatto male prima e non è stato sostituito, quindi Benzema, in tutti gli effetti, fa parte della spedizione mondiale della Francia, anche se non ha mai giocato nemmeno un minuto. E quindi cosa succede? Che in conferenza stampa De Champ gli hanno chiesto, ma Benzema può essere un giocatore? E lui è un po' seccato, un po' stizzito, ha detto non rispondo, andiamo avanti. E quindi sembrerebbe di no, anche perché comunque Benzema è già tornato in campo, Correal ha già fatto un paio di amichevoli e un giocatore recuperato, anche se non recuperato per poter giocare una finale di Coppa del Mondo, però un giocatore che sta abbastanza bene. E appunto quindi era saltata fuori, era palesata questa ipotesi. Benzema sarà molto probabilmente in Qatar, e dopo vi spiego perché questa cosa si lega appunto alla Juventus, sarà molto probabilmente in Qatar per assistere alla finale, perché appunto vincendo ci laureerebbe campione del mondo, anche senza aver giocato, perdendo invece avrebbe diritto la medaglia d'argento, quindi oro-argento la premiazione la deve ricevere, perché anche lui comunque fa parte del gruppo di giocatori dei 26 scelti da Didier Deschamps all'inizio di questi mondiali. E allora perché questa cosa interessa la Juventus? Perché Emmanuel Macron ovviamente avrebbe piacere ad avere non solo Benzema al suo fianco, in tribuna d'onore, ma anche Pogba e Kanté, che sono due giocatori che comunque fanno parte della rosa, non dei 26 convocati, ma della rosa della Francia, due giocatori che sarebbero comunque stati inseriti molto probabilmente all'interno della rosa della Francia, ma erano infortunati e quindi non hanno potuto partecipare. E quindi li vorrebbe lì perché ovviamente in caso di vittoria sarebbe contento di avere due giocatori che il campionato del mondo l'hanno già vinto quattro anni fa sempre con la Francia e che non hanno potuto disputare questa edizione. E lato Pogba la Juventus non sarebbe proprio soddisfatta, contenta di lasciare andare Paul Pogba in Qatar in questo momento in cui non sta bene, in cui deve recuperare, in cui gli infortuni lo stanno continuando a rincorrere, a inseguire e sembra non volerlo mollare. E io sono molto d'accordo con questa linea di Juventus. Ora per il momento non sembra che ci siano delle pressioni da parte di Pogba che ti dice voglio assolutamente andare in Qatar a vedere la finale Coppa del Mondo, che sarebbe comunque comprensibile perché stiamo parlando non solo della tua nazione che si va a giocare a finale del Mondiale, ma la tua nazione a quale tu dovevi essere presente non hai potuto giocare per via di un infortunio. Quindi sei ancora più protagonista, sei ancora più dentro il discorso. Sarebbe comprensibile, ma allo stesso tempo sarebbe probabilmente anche poco professionale perché appunto Pogba è stato riacquistato dalla Juventus quest'estate e per una serie di decisioni un pochino rivedibili, come dicevo ieri nel titolo, rivedibili da parte di Pogba, siamo ancora messi male, il Mondiale è stato saltato perché alla fine si è voluto fare un po' come si voleva, piuttosto che seguire alcuni consigli medici lato Juve, che gli avevano consigliato di operarsi a luglio, lui invece è optato per questa terapia conservativa, che ha allungato i tempi, l'operazione a settembre e poi probabilmente durante l'operazione qualcosa è andato storto, non lo so, ci sono altri problemi, non ne ho idea. Comunque Pogba non è pronto per giocare, a differenza di Benzema, non potrebbe scendere in campo anche perché non è convocato. Io spero che se la possa guardare a casa sul divano davanti alla televisione e non in Qatar perché davvero la troverai una cosa abbastanza, passatemi il termine, tra virgolette, ridicola, ma più che ridicola non professionale, proprio perché questa situazione scomoda ci siamo non solo per sfortuna, cioè non solo perché, oh Dio, Pogba si è fatto male, può capitare, non solo per quello. E quindi, niente, dovrà cercare di recuperare la forma fisica se vorrà tornare presto non solo in nazionale ma anche in campo con la Juve, e quindi il conto è Benzema che sta bene, ha recuperato, è convocato e quindi deve andarsela a vedere. Non ho idea di Kanté come stia, sono affaracce del Chelsea. Lato Juve per quanto possa comprendere la voglia di Pogba di essere presente in Qatar, spero proprio che possa guardarsela a casa sul divano dopo una giornata di terapia, di recupero, magari di prime corsette perché abbiamo bisogno anche di lui in campo. E quindi vediamo domani quale sarà la Juventus scelta da Massimiliano Allegri, Juventus molto rimaneggiata, Arsenal è una squadra molto in forma in questa stagione del campionato inglese, quindi sicuramente test di alto livello, ricominciamo proprio col botto e sarà ancora più divertente. Ci vediamo domani ragazzi, un abbraccio.